Si appresta a diventare realtà la rigenerazione della pista ciclabile del lungomare, danneggiata in molti punti e il suo prolungamento da piazza Mancini Battaglia sulla circomallazione fino all'incrocio con via Villini a mare. Sono già in fase di consegna i lavori appaltati per un importo contrattuale di 884.816 euro alla ditta giudicataria all'Intercontinentale Servizio Igiene SRL di Messina, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base di un progetto presentato lo scorso anno dall'amministrazione comunale e in particolare dalla Direzione dei Lavori Pubblici che successivamente ha anche curato le procedure di gara. Gli interventi in cantiere già a partire dal prossimo mese di settembre, oltre alla sistemazione della pista attuale e il suo prolungamento, riguardano anche l'inserimento lungo il percorso complessivo che sarà di 3,7 km di diverse strutture a servizio degli utenti della ciclabile, quali ciclostazioni e pensiline smart dotate di sistemi di ricarica per le e-bike. La nuova pista ciclabile di circa 1.200 m sarà realizzata in continuità con il tratto già esistente e da mettere in sicurezza con importanti interventi di manutenzione straordinaria. Verrà creata doppia corsia esclusiva protetta da opportuni cordogli fino all'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Parini. Il successivo tratto fino al confine comunale di Asci Castello, per motivi di spazio stradale, è stato invece previsto a doppia corsia protetta con divisa.